Al videogiornale di Teleacras le interviste a due aspiranti concessionari del campo di rugby a Villaseta ad Agrigento, Danilo Italia e Alfonso Alaimo della Miraglia Rugby, da anni in attesa. Adesso la struttura è stata concessa dalla comune di Agrigento al circo acquatico, mortificato il diritto allo sport. Ad Agrigento la società di rugby Miraglia Rugby, presieduta da Danilo Italia, da tempo chiede la concessione del campo di rugby a Villaseta per poter svolgere l'attività sportiva. La concessione non è stata mai concessa, tra tante difficoltà, tra tanti atti di indirizzo, revoche, annulli e roba varia del burocraticese. Annesso al campo di rugby a Villaseta, invece, è stato concesso l'intero spazio del campo di rugby per l'allocazione del circo. Il diritto allo sport e alla iniziativa privata meritevole è stato del tutto mortificato dall'attuale amministrazione, rappresentata dalla commissario Giammanco. Dice bene, dice bene. Il circo dimostra quanto di più veritiero, nel senso che in un circo acquatico siamo a mare. Il diritto allo sport viene negato, viene negato e ci viene negato da tre anni. Da anni noi giriamo per i campi della provincia di Agrigento per poter fare sport, per poter portare un po' di nobile sport come il rugby ad Agrigento, ma questo non ci è possibile. Adesso, come intendete procedere? Vi sono delle speranze, ovviamente ormai proiettate verso la prossima amministrazione comunale che si insedierà dopo le amministrative? Sì, a questo punto non possiamo fare altro che aspettare. Abbiamo aspettato fino ad adesso, abbiamo continuato a lottare contro i mulini a vento tutto questo tempo. Continueremo a chiedere uno spazio per questo sport, questo nobile sport. Speriamo bene nelle prossime amministrazioni. Attualmente, per curiosità, dove vi allenate? Per ora abbiamo in concessione il campo di Port Empedocle, il Vincenzo Collura di Port Empedocle. Alfonso Laimo, avete sposato la questione che affligge la società Miraglia Rugby per la semplice ragione che lei è un presidente di circolo del nuovo centrodestra ad Agrigento, ma è stato anche il primo presidente della società Miraglia Rugby, anche se per un solo mese. Sì, nel 2010 soltanto per un mese. Mi sono innamorato immediatamente di questo sport, poi per motivi di lavoro ho lasciato in mano la palla ovale ai ragazzi. Però, devo dire, li ho riavvicinati quando si è trattato di parlare di questa questione che ci rattrista veramente. Lo sport agrigento è un diritto nuovamente negato. Questi ragazzi svolgono un'opera meritoria, questi ragazzi della Miraglia Rugby fanno allenare circa una quarantina di bambini che vengono dai quartieri più disparati e non ultimo quello disagiato di Villa Seta. Perché a questi ragazzi non deve essere data la possibilità di allenarsi in un campo sportivo che in fondo, oltretutto, è stato a loro dedicato fin dall'inizio? Perché questo campo è dedicato, questo stadio è dedicato all'attività regbistica, oltre che calcistica. Il progetto esecutivo, lo dice, la delibera dell'assessore al ramo del tempo, che oltretutto era Enzo Fontana, lo dicono. Perché oggi deve esserci un circo acquatico? Perché oggi agrigento deve porsi all'attenzione di nuovo con un gesto di inciviltà? Ospitiamo un circo, ospitiamo storie di animali maltrattati, invece di dedicare i nostri spazi all'attività sportiva e alla realizzazione dei giovani. Grazie. Grazie.